Tutta la comunità della cittadina francese di Arras ha preso parte ai funerali di Dominique Bernard, l'insegnante accoltellato a morte da un sospetto militante islamico la scorsa settimana. Studenti e professori, tanta gente comune tra commozione e shock per quanto accaduto. Sono in colere di dire che oggi in un paio come il nostro si arriva a queste situazioni e poi ho paura per l'avenir. Io vivo a alcune centenze di metri dal liceo, i miei figli sono stati al liceo, non conosco questo professeur, ma è un professeur dell'Educazione Nazionale e penso che bisogna essere là oggi. Intanto, mentre si teneva la cerimonia funebre, la polizia ha fatto sapere che il sospetto omicida è un uomo di 20 anni di origine cecene, ex studente dell'Istituto.